la rocca di asolo bello 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 siamo partiti stamattina fa caldo ma la gamba sta stra bene direi ottima forma anche oggi troppo contento salita per asolo è bella stecca come sempre la salita maschita al fine non ero mai stato ad asolo ma è davvero bella merita e dopo asole mazer siamo arrivati mi piace mi piace adesso andiamo a piantare la tenda per oggi abbiamo dato anche se in realtà è mezzogiorno tenda montata e adesso andiamo al piave a farci la doccia zanzi zanzi so qua all'inizio pendenze accessibili adesso eccoci qua il mio fratello mi ha staccato definitivamente non vedo più perso il contatto visivo arrivati al monte pizzocco e ce l'abbiamo fatta piccolina e intorno a noi tanta nebbia